La lettera di Giacomo, o perlomeno, questo è il suo nome in italiano. Infatti, se guardiamo il testo greco, vedremo che il suo nome è Iacobos, traduzione del nome ebraico Yaakov, e per questo motivo molte delle traduzioni antiche e moderne traducono il suo nome come Giacobbe. In questo video lo chiameremo così. Ci sono molte persone di nome Giacobbe nel Nuovo Testamento. Due di loro appartengono alla cerchia ristretta dei dodici discepoli di Gesù, ma questa lettera è stata scritta in persona da Giacobbe, il fratellastro di Gesù. Conosciamo la storia di questo Giacobbe dal Libro degli Atti e dalle lettere di Paolo. Dopo che Pietro lasciò Gerusalemme per fondare nuove chiese, Giacobbe, il fratellastro di Gesù, diventò un leader importante della Chiesa Madre di Gerusalemme, composta per la maggior parte da ebrei cristiani o messianici. Fu la prima comunità cristiana in assoluto, e sappiamo che ebbe momenti difficili durante i vent'anni in cui Giacobbe ne fu a capo. Una carestia aveva causato una grande povertà nella regione, e gli ebrei messianici venivano perseguitati dai leader ebrei a Gerusalemme. Ma nonostante tutto, Giacobbe era noto come un pilastro della Chiesa di Gerusalemme. Fu anche conosciuto come un riconciliatore che guidava la Chiesa con saggezza e coraggio finché non fu tragicamente assassinato. E con questo libro riceviamo l'eredità dell'insegnamento e della saggezza di Giacobbe, concentrati in un'opera breve e molto incisiva. Il libro comincia come una lettera, e l'autore saluta tutti gli ebrei messianici che vivevano fuori da Israele. Ma non è strutturato come le lettere di Paolo, in cui egli affronta i problemi specifici di una Chiesa locale. Piuttosto questo libro è un riassunto della grande saggezza di Giacobbe per tutte le comunità di seguaci di Gesù. L'obiettivo di Giacobbe non è quello di trasmettere nuove informazioni teologiche. Vuole invece entrare nelle nostre vite e mettere in discussione il modo in cui viviamo. La saggezza di Giacobbe è stata profondamente influenzata da due fonti. La prima è l'insegnamento di Gesù sulla vita nel Regno di Dio, in particolare il Sermone sul Monte, che riprende e cita continuamente nel libro. La seconda influenza importante è la saggezza biblica del Libro dei Proverbi, in particolare i componimenti dal primo al nono capitolo. Di fatto, Giacobbe crebbe con Gesù e con il Libro dei Proverbi. Di conseguenza, il suo insegnamento somiglia a loro ed è pervaso dallo stesso linguaggio e dallo stesso simbolismo. Il libro consiste in brevi ma stimolanti dialoghi intrisi di saggezza, pieni di metafore e battute facili da memorizzare. Essenzialmente, Giacobbe esorta la comunità messianica ad essere davvero saggia, vivendo secondo il riassunto della Torah offerto da Gesù, amare Dio e amare il prossimo come te stesso. La parte centrale del libro si sviluppa tra i capitoli 2 e 5, composti da dodici brevi insegnamenti che esortano il popolo di Dio a una sentita devozione al cammino di Gesù. I dodici insegnamenti non sviluppano in modo lineare una singola idea principale. Ogni insegnamento è sostanzialmente indipendente e si conclude con una affermazione di forte impatto. Ma tutti questi insegnamenti sono collegati per mezzo di parole e temi chiave ripetuti, il che è realmente geniale. All'inizio della parte principale del libro leggiamo due insegnamenti. Il primo verte sul favoritismo e il secondo sull'amore. Giacobbe mette in evidenza la nostra tendenza a mostrare favore nei confronti delle persone che possono procurarci benefici, mentre ignoriamo quelle che non lo possono fare, di solito perché sono bisognose. Giacobbe dice che questo modo di fare si contrappone alla definizione dell'amore data da Gesù. Continua mostrando quando una fede è autentica e quando invece non lo è. Se qualcuno dice di avere fede in Dio, ma ignora i poveri o i bisognosi, la fede di questa persona è morta, sostiene Giacobbe. Le loro azioni tradiscono ciò che dicono di credere, mentre la fede autentica si traduce sempre nel mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. Sparsi nella parte principale del libro troviamo tre punti diversi in cui Giacobbe analizza gli insegnamenti di Gesù riguardo le nostre parole. Così con la stessa bocca con la quale offendiamo le persone, poi rendiamo lode a Dio. È orribile. Inoltre, giudichiamo le persone e parliamo male di loro a loro insaputa. Per di più, tendiamo a distorcere la verità a nostro vantaggio. Il modo in cui parliamo delle persone apre una finestra sui nostri cuori e sui nostri valori più importanti. Le nostre parole rivelano la verità sul nostro carattere. Giacobbe inoltre crede, secondo gli insegnamenti di Gesù, che la comunità del regno di Dio sia il luogo in cui le divisioni create dalla ricchezza e dallo status sociale vengano demolite. Prima di tutto ci mette in guardia circa l'arroganza che la ricchezza può generare nelle persone che credono che questa possa durare per sempre. Giacobbe dice che un giorno la loro ricchezza marcirà proprio come loro. Al contrario, il popolo di Dio deve vivere con pazienza e nella speranza del ritorno di Gesù per ristabilire l'ordine delle cose e questo dovrebbe ispirarci a una vita di preghiera piena di fede. Questa parte del libro e tutti questi insegnamenti sono davvero incisivi e ce ne sono molti di più di quanti sia possibile menzionare in questo video. Vi consigliamo di leggerli tutti attentamente. Prima di questi dodici saggi insegnamenti c'è il capitolo introduttivo. È un flusso di insegnamenti saggi e frasi ad effetto che riassumono le idee principali dell'intero libro. Questo capitolo in realtà introduce tutte le parole chiave, i temi che ritroveremo dal secondo al quinto capitolo. Giacobbe esordisce dicendo che sa per esperienza personale che la vita è difficile. Dopotutto fu martirizzato poco dopo aver scritto questa lettera, ma crede che le difficoltà e le prove della vita siano in realtà dei doni paradossali, che possono generare perseveranza e modellare il nostro carattere. Nel momento della nostra sofferenza Dio può fare grandi cose in noi e può aiutarci a diventare perfetti e completi. La parola perfetti è davvero importante per Giacobbe. La ripete sette volte nel libro. In ebraico biblico e in greco questa parola si riferisce all'integrità. Significa vivere una vita del tutto integra, dove le nostre azioni sono sempre conformi alle credenze e ai valori ricevuti da Gesù. Giacobbe sa che la maggior parte di noi in realtà sperimenta delle incrinature nella propria vita, che comportano contraddizioni evidenti del nostro carattere. Siamo tutti più danneggiati dentro di quanto siamo disposti ad ammettere. Tuttavia, la missione di Dio è quella di risanare le persone divise e renderle integre. Questo processo comincia con la saggezza, l'abilità di vedere le nostre difficoltà da una nuova prospettiva. Dio donerà questo tipo di saggezza in abbondanza alle persone che la chiedono con fede, senza dubitare del carattere di Dio. Quando ci rendiamo conto della nostra umile e fragile condizione davanti a Dio, siamo costretti a scegliere tra ansia o fiducia. La vera saggezza consiste nella decisione di credere che Dio sia buono a prescindere dalle nostre situazioni personali. Dunque, se vi trovate in un momento difficile della vostra vita a causa della povertà, dice Giacobbe, provate a vederlo come un dono che vi costringe a credere esclusivamente in Dio. Dopotutto, la ricchezza è passeggera, come ogni altra cosa, come i fiori di campo nel caldo estivo. Quando ci troviamo in momenti difficili, non accusiamo Dio. Piuttosto, lasciamo che la nostra situazione personale ci mostri quello che Gesù ci ha insegnato del carattere di Dio, ovvero che il Padre è generoso, che è qui con noi per incontrarci nel nostro dolore e che è degno di fede. E questo è Dio, che per mezzo di Gesù ci ha dato una nuova vita, per diventare nuovi esseri umani che possono affrontare la sofferenza, credendo pienamente nel Padre, proprio come fece Gesù. E questa nuova umanità è qualcosa che scopriamo quando non ci limitiamo ad ascoltare la parola di Dio, ma la mettiamo in pratica. Giacobbe, qui, chiama la parola di Dio la perfetta Torah della libertà. Si riferisce al comandamento più importante della Torah, tramandatoci da Gesù, ovvero che Egli ci ha liberati per amare Dio e il nostro prossimo. E Giacobbe ci mostra in modo pratico che questo tipo di amore consiste nel parlare agli altri in modo gentile e amorevole. Vuol dire servire i poveri e vivere con sentita devozione nei confronti di Dio e di nessun altro. Adesso potete vedere come questo capitolo d'apertura contenga tutte le parole chiave e le idee analizzate più approfonditamente nei dodici insegnamenti, che troviamo tra il secondo e il quinto capitolo. Giacobbe si è immerso completamente nella saggezza di Gesù e dei proverbi. E con questo libro ci ha fatto il grande dono della sua saggezza, strutturato splendidamente. È una sorta di pugno nello stomaco per coluro che vogliono seguire Gesù. Ed ecco di cosa tratta il libro di Giacomo. Anzi, Giacobbe. Grazie. 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 Grazie.